il rub out è un prodotto molto valido per la rimozione del calcare e dell'ossido dai vetri quindi è un prodotto da utilizzare quando avete già provato a lavare i vetri col vello il tergivetro e non avete risolto avete già provato un anticalcare e non avete risolto l'alternativa rimane soltanto più un acido molto forte tipo il fluoridrico che però ha degli inconvenienti per la salute dell'operatore e per il fatto che scolorisce i telai la possibilità appunto è invece il rub out che è una crema a base di silicati questi silicati massaggiati sul vetro con una spugna antigraffio sono in grado di tirare via la maggior parte del calcare o dell'ossido che si forma sopra il vetro per dimostrarlo occorre innanzitutto lavare il vetro con un vello e un tergivetro per vedere bene quello che rimane dopo un passaggio col tergivetro vedete che viene via lo sporco come dire normale ma le macchie di calcare sono ancora tutte qui a questo punto noi prendiamo la nostra spugna che deve essere una spugna antigraffio quindi con la paglietta bianca apposta per vetri la spugna deve essere bagnata e su questa spugna noi andiamo ad applicare una piccola quantità di rub out a questo punto sfreghiamo in modo circolare ma energico circa 4 5 volte intanto che noi massaggiamo sentiamo proprio che il calcare si sta sciogliendo sotto a questo punto bisogna rilavare con il vello per togliere via tutto quanto il prodotto in eccesso steccarlo nuovamente e vedete che effettivamente nelle zone dove ho passato la spugna il calcare non c'è più lo sentite anche proprio a livello tattile che in questa zona qua è molto ruvido mentre nella zona qui diventa tutto molto più liscio e il vetro è trasparente non c'è più non c'è più